Ma è molto difficile stabilirlo. Il settore internet innanzitutto è una massa gassosa in cui è difficile identificazione dei perimetri. E poi cosa vuol dire concorrenza? Un Baidu che opera in Cina e che ha una quantità di clienti, chiamiamoli così, enorme, ovviamente parametrizzata a un paese grande come la Cina. Fa concorrenza a un servizio di Matera in Basilicata? Sì, no, non è facile dirlo.